è nata ascoltando le parole di un mio amico perché un mio amico mi ha raccontato una storia d'amore che ha vissuto e me l'ha raccontata per tanto tempo, per vari mesi, fino addirittura alla sua conclusione e un giorno di getto mi sono messo lì e mi è venuto naturale scrivere una canzone che parlasse di quella cosa come se io fossi il mio amico Dopo Sanremo uscirà il mio secondo album e il titolo è Tante care cose uscirà il 12 marzo, non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate